Si sono conclusi i lavori di riqualificazione al Monte Croce, all'Effe, un progetto previsto dal GAL che abbiamo già seguito anche negli scorsi mesi. Come mai è stato realizzato e in che cosa è consistito? Allora, questo progetto si inserisce all'interno del progetto più ampio di rivalutazione delle aree montane della Val Gandino, quindi quattro comuni hanno aderito a questo progetto finanziato al 90% dal GAL che sta per gruppo di azione locale o comunque un'unione di comuni della Val Seriana, della Val Cavallina, della zona del Lago. Sono fondi europei che hanno permesso a noi e ai comuni che hanno aderito a questa iniziativa di riqualificare determinate zone montane, in questo caso per l'Effe, la zona di Monte Croce. Qui dove ci troviamo c'era una zona a Prato dove si parcheggiava in modo libero ma anche selvaggio l'automobile quando si voleva venire a fare una passeggiata in Monte Croce o recarsi a trovare gli amici, i parenti in questa località che è un po' il luogo estivo per eccellenza degli abitanti di l'Effe. Ci sono alcune residenze estive, quindi è una località molto bella, tra l'altro di facile accessibilità quindi direi che l'intervento che abbiamo pensato due o tre anni fa trova oggi, anche a livello a colpo d'occhio secondo me, per quanti poi arriveranno nelle prossime settimane a poter godere di questo spazio diciamo che questo intervento ha avuto una sua logica e oggi ci permette di essere soddisfatti nel vedere quasi ormai i conclusi lavori ma che praticamente con l'estate permetteranno appunto la possibilità alla gente di venire qui. È un lavoro che ha comportato una spesa per il Comune dell'Effe di soli 15.000 euro perché se vediamo l'intervento è un intervento importante ma che invece per il finanziamento ottenuto ha previsto altri 45.000 euro di costo, quindi un intervento che è costato sui 60.000 euro. Ricordiamo che questo intervento vuole valorizzare la zona di Monte Croce in particolare questa zona delle doline, questa particolare conformazione del terreno di Monte Croce con queste buche, queste doline appunto che hanno una loro storia si sono formate chiaramente nei millenni, se per non dire centinaia di migliaia di anni fa e quindi direi che è un ottimo viatico questo modo di intervenire credo come amministrazione per valorizzare una zona molto bella di suo e caratteristica per anche l'attività svolta dagli amici di Monte Croce soprattutto nel periodo di fine agosto quando c'è una sagra e c'è un momento di festa così dalla località. Una piccola polemica è nata solo sui parcheggi, precisiamo che c'è comunque lo spazio per parcheggiare che ne verranno realizzati anche altri. Sì, no, più che polemica si tratta di alcune considerazioni fatte magari così a tu per tu con chi vive poi la zona. Allora, per quanto riguarda i parcheggi, prima si poteva magari effettivamente parcheggiare più macchine perché questo ricordiamo è l'unico, diciamo, pezzo di territorio di proprietà comunale e siamo comunque in azione per definire altri spazi dove poter parcheggiare le auto. Con questo intervento abbiamo una decina di posti auto ma nell'area a fianco, diciamo, nell'area laterale. C'è altro spazio per poter avere ancora alcuni posti auto e nelle prossime settimane definiremo un progetto per la realizzazione di questi posti auto che comunque credo abbiano necessità di esistere proprio in funzione della disponibilità di quest'area di poter accogliere persone sia le fesi ma che vengono anche da fuori per appunto poter godere di quest'area. Questo comitato che si dà da fare davvero tanto per valorizzare la località c'è un chiosco, ad esempio, che pensiamo di dare in gestione a questo comitato ma anche solo per le giornate festive o comunque nel periodo della Sagra di Monte Croce.